C'è la maggioranza del popolo siciliano, quando i partiti di Selonzo non piace questo modo di governare vuol dire che andiamo alle urne, vediamo cosa diranno i siciliani che finalmente sono diventati protagonisti e cominciano a diventare protagonisti del loro futuro e cominciano a entrare nelle istituzioni se questo sistema non è quello che vogliamo. I giovani, si dice sempre, i giovani sono il futuro, invece voglio che i giovani siano il presente. Le donne sono l'altra metà del cielo e io invece voglio che siano anche l'altra metà della terra. E' su questo che noi costruiamo una nuova realtà, mettendo insieme anche esperienze. Nello stesso giorno dono il nomino Zichi, che è scienziato di Montietro, 33 anni, una ragazza universitaria. Questo è il modo normale come funziona la società, ma non il modo come funziona purtroppo la politica. E la politica, appunto, ai partiti che ne pensano di questo? Io penso che dei partiti seri dovrebbero pensare bene, perché sanno che la politica si fa per servizio, per amore con gli altri, non per spartirsi il potere.